La contagiosità della variante Omicron abbinata allo sdoganamento del tampone antigenico rapido validato come test sufficiente nella diagnostica di un caso di positività al Covid-19 fa schizzare i contagi marchigiani a livelli inusitati. Per la prima volta più di 4.000 contagi in un giorno solo, 4.257 per la precisione in una incidenza da contagio che arriva a numeri da zona arancione con 1.027 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Dati fisiologicamente stravolti dal fatto che anche le positività emerse in test di farmacia o laboratori accreditati gonfiano subito il conto dei positivi senza passare per la verifica del molecolare. Così succede anche che la provincia di Pesaro Urbino da sola si ritrova 1.042 contagi in un giorno solo. Numeri che indicano come più di un tampone su quattro fra quelli processati sta rilevando Covid-19, numeri gonfiati anche dal fatto che l'Asur, in conseguenza del nuovo provvedimento, sta recuperando il tracciamento arretrato dei giorni precedenti. Più stabili invece i numeri dei ricoveri, 329 nelle Marche con 58 casi in terapia intensiva che costituiscono il 22% dell'occupazione dei posti letto. Un novantene di Montegranaro è invece l'unico decesso registrato nella giornata odierna.